ma che stai a fa? niente sto spolverando le toys perché? ma se le tieni le teche antipolvere ma lascia fa cosa vuoi? dimmi dai fra poco è Pasqua me lo compri l'uovo quest'anno ma c'hai 30 anni io che uovo vuoi? dai quello della kinder così ci fai pure il video il video ma già l'hanno fatto Stefano del Ness del Seba Mauro di Italinerde quello è il king delle uova di Pasqua cosa fai io? no me lo posso fare dai su dai se me lo compri ti compro una toys eccolo ma ne bastava uno eh lascia fa mo lascia fa ciao bambini ciao bambine ciao folletti e follettine raga l'ho visto fa in un video uno 50.000 views quindi mi aspetto come minimo lo stesso risultato da questo video mi raccomando bentornati su peperac collectibles oggi sono qui con Hulk il mio assistente e ovviamente Hulk toys che mi aiuterà in questo video un video un po' diverso dal solito perché oggi visto che siamo vicini a Pasqua a Pasqua siamo tutti più buoni o quello era a Natale me li confondo comunque andremo ad aprire come hanno fatto in tanti ormai su YouTube io sono l'ultimo arrivato ma va bene uguale l'uovo ma kinder maxi gran sorpresa pro ultra maxi incredibile della kinder andremo a vedere ovviamente quello a tema Marvel visto che abbiamo qui Hulk andremo a vedere quali sorprese contiene come se tutti voi già non lo sapeste volevo dirvi che io non ho pesato l'uovo perché qui da me se lo fai ti cecchinano e ti picchiano fortissimo quindi adesso andiamo ad aprirlo insieme per rompere l'uovo ovviamente mi farò aiutare da Hulk perché io non ho la forza necessaria per farlo quindi intanto abbiamo tolto la carta adesso usiamo Hulk per romperlo è successo qualcosa? intanto la gamba si è sminchiata ok si si è rotto allora andiamo ad aprirlo è più facile unboxare le Hulk toys venga eccolo qua bravo ultimo si è stato di grande aiuto non sei servito a niente ovviamente si mangia che schifo fa poco schifo l'uovo della kinder mamma mia lo butto via adesso forca madre guardate che culo ragazzi scusate ho detto culo vi giuro che non l'ho pesato ma è Hulk anzi come vuole la tradizione si fa in questo modo adesso lo andiamo a montare poi ve lo faccio vedere meglio troppo complicato abbiamo trovato Hulk le altre sorprese possibili erano Iron Man erano Iron Man e Spider Man Groot che non c'entra assolutamente niente e non mi ricordo chi altro venga Iron Man, Spider Man Hulk e Groot eccolo ed eccolo qui questa è la sorpresa poi ve la faccio vedere ovviamente meglio c'è anche l'incredibile comodissima app che potete utilizzare e ha il meccanismo come potete vedere se li vediamo a confronto la qualità direi che più o meno è quella comunque è molto carino dai niente di particolare ma abbastanza carino anche la sua basetta può essere messo sulla basetta incredibile diorama ragazzi io scherzo eh che faccio lo scemo ma comunque sono belle sorprese queste eh perché comunque per quello che costa l'uovo la qualità è ottima mangio un altro pezzetto di uovo perché mi serve e questo è l'uovo della Marvel tutto qui vi ricordo che potete trovare le altre sorprese io vi ripeto è andata di fortuna ho trovato Hulk è una pura e semplice combinazione credetemi ma potete pesare le uova ormai online trovate di tutto potete pesarle per vedere appunto se riuscire a trovare le altre sorprese Groot, Iron Man, Spider-Man avrei preferito uno Spider-Man sinceramente ma è capitato proprio Hulk adesso non so che fine farà probabilmente la userò per altro e detto questo ragazzi io vi ricordo che video di gran lunga migliori dei miei soprattutto sulle uova le fanno come ho detto in apertura del video i due canali che sono il Nest del Seba il grande Stefano che vi invito a seguire perché fa dei video spettacolari sul retro console soprattutto sul Nest ed è un carissimo amico mamma mia carissimo amico mamma mia e poi anche il grande Mauro di Italy Nerd che è il king delle uova di Pasqua è buona che cioccolare non è vero che fa schifo ragazzi scusate ragazzi eccomi qui dicevo bellissima la sorpresa buonissima la cioccolata ma non fate come me non ne mangiate troppa se non volete passare il resto della giornata in questo modo quindi mangiate responsabilmente non vi drogate per quanto possibile e fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa follia e se volete altri video come questo ovviamente detto questo ragazzi io vi saluto buona santissima Pasqua a tutti e ci vediamo a un prossimo video ciao bambini ciao 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 ciao